Dopo il successo dell'iniziativa dello scorso giovedì 15, torna il Pasta Day al mercato di Campagna Amica in Vienzforti d'Ungheria a Campobasso. L'iniziativa mira a far conoscere ai consumatori la qualità e il gusto unico della pasta prodotta esclusivamente con grano duro italiano, coltivato e lavorato in Molise. Dalle 12, oltre al classico menù a chilometro zero, nell'area food del mercato sarà possibile consumare o acquistare e portare a casa il menù Pasta Day, composto da un piatto di pasta, sagnette con legumi e un bicchiere di vino molisano. Secondo la nuova normativa in vigore da alcuni giorni, le confezioni di pasta come quelle di riso dovranno riportare in etichetta anche il paese di origine del grano duro utilizzato per la produzione della pasta e non più solo il luogo della produzione. Ciò, sottolinea Coldiretti, mette fine all'inganno dei prodotti importati spacciati per nazionali in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, spesso trattato con glifosate nella fase di preraccolta, senza che questo fosse fino all'entrata in vigore della nuova norma indicato nell'etichetta. L'assenza dell'indicazione chiara dall'origine, precisa Coldiretti, non consente di conoscere un elemento di scelta determinante per le caratteristiche qualitative e impedisce ai consumatori di sostenere le realtà produttive nazionali e con esse il lavoro e l'economia del territorio. Grazie a questa nuova norma usciranno finalmente dall'anonimato e saranno riconoscibili nell'etichetta della pasta 4 miliardi e 3 di chili di grano duro italiano. L'obbligo di indicare in etichetta la provenienza del grano duro riveste fondamentale importanza in Molise sia per la produzione dello stesso con migliaia di produttori interessati che finora hanno visto fortemente depreciato il proprio prodotto sia per le imprese di trasformazione che in Molise vantano una lunga ed affermata tradizione.